Una giornata di formazione gratuita si è tenuta qui al Teatro Antidoto per caregiver e professionisti del settore, un progetto di vita per persone con disabilità. Purtroppo, ancora oggi, nonostante ci siano leggi molto datate, anche ventennali, vengono sconosciute e non applicate, soprattutto dalle istituzioni. Quindi spesso noi famiglie ci troviamo ad avere contatti con persone non formate, quindi non veniamo ascoltate e ogni diritto diventa una lotta, paradossalmente. Vivere sono soli, quindi dove lascio mio figlio o mia figlia mentre vado? Cioè, molte famiglie non hanno una vita sociale, non riescono a mangiare una pizza, non riescono ad andare al cinema perché hanno sempre e continuamente il pensiero dell'assistenza. Quindi questi numeri, anzi, sono numeri anche grandi. Solitamente io mi ritrovo anche dei numeri inferiori e questo è un peccato. Stiamo registrando tutto in video e in audio e lo metteremo a disposizione per chi non ha potuto partecipare. È una giornata ricca, è una giornata importante che ci sta in un certo modo fornendo gli strumenti o comunque le informazioni adatti per appunto il progetto di vita che è la cosa più importante e che riguarda le persone con disabilità e quello che porta, insomma, finalizzato appunto all'indipendenza dei nostri figli ed è una cosa fondamentale per noi cargiver. Oggi affrontiamo in modo particolare il tema del progetto di vita, il dopo di noi, preparando noi stessi a ricevere formazione di qualità in vista di poter stilare dei progetti insieme alle istituzioni e ai servizi sociosanitari del territorio. Lei ha parlato del dopo di noi, il pensiero fisso di un genitore che vive una disabilità all'interno del suo nucleo familiare? Il concetto del dopo di noi è per noi una nota dolente perché difficilmente ci relazioniamo con questi pensieri. perché sono già dei pensieri di sofferenza, dover pensare un giorno di dover lasciare i nostri figli significa affidarli completamente alle cure di qualcun altro. Le ripeto, in questo territorio è difficile poter pensare di dover lasciare un compito così gravoso quando non ci sono strutture personale adatto che si faccia carico di queste realtà. Queste giornate sono molto importanti ma non dobbiamo ricordarcene solo il 3 dicembre durante la giornata della disabilità ma dovremmo ricordarcene anche nei giorni a venire. Molto spesso purtroppo le famiglie vengono lasciate da sole, da sole alla deriva senza sapere cosa fare, come accudire il proprio figlio nel migliore dei modi. Proprio in queste giornate finalmente si dà la giusta attenzione sia alle famiglie che alle persone con disabilità. Io fortunatamente ho avuto uno strumento molto importante che è quello dei social. Ho deciso finalmente di mostrare che la disabilità non è un ostacolo, mettiamola così, va solo conosciuta e soprattutto bisogna andare oltre le apparenze e gli stereotipi perché dietro una disabilità c'è pur sempre una persona.